ma supporti si fa via si fa via per la prima stessa regalando il primo ben salti il quale trae la posta morta e mette devolveranno il fondo sull'emostra di qui la città quando che si fa regalando ma non ci può non ci può sta qui no 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 un'altra parte che si sta qui invece che è bello davanti che ti arpao web 1 i'm sorry hai un survivalist? no, non l'ho sentito non li ho sentito no no mamma, io chi cura il medico ragazzi? io questo non è il medico ma il medico l'ho detto io 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 in tutti i sensi anche con l'h qualcosa non funziona questo non funziona sapete che cazzo è massato qui sotto in vita mia? nessuno va mai sotto terra oh no what? it's been a good run oh no ho sbagliato strada sto girando in pericolo pericolo ha girato il medico raggiunto ma vuoi morire? no cazza i'm undying i'm eternal i'm one man and machine i'm doom eh no i'm doom i'm pain i'm no perchè ho troppi giochi in questo istante quindi ho deciso di rimandarlo per non spendere il prezzo pieno e approfittarle di un eventuale sconto futuro uso il fatto che ho tre giochi da giocare in questo momento mi scusa per non acquistarlo subito ma 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 non ti想 ma 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 warp come capire i yeah Sto coerentemente rimandando l'acquisto del buon come ferna la 1 di calma, mi deludicato che questo non è assolutamente il momento giusto Eccolo mi dà 100 Ne ho 3 Ok, 97 Ok Next round on me Fira lezio sei diventato un tutt'uno col cappello No, ma guardate bellissimo la mia skin che c'è il prosciutto in testa e mi esce fuori la barba No, il clipping di lui mi dà troppa noia Veramente Mi spugge il mio cd bianco, tantissimo Cosa ti racconti? Cioè mi sa che da qui spawnano, io non vorrei No, 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 da lì spuggerono 100% I have become one One with the pulverizer Non è che c'era poi tanto poste eh per lo meno qui si vede la gente da lontano si però io devo tenere all'altro lato scusami adesso sto qua alessio sta sull'interno io sto qua alessio sta sull'interno e io guardo il trame di spawn point e mi dà il supporto dalle in fondo se arrivasse poca gente dalla parte bassa no ma io oh no il cloud control fa ancora schifo su cosa ok cazzo dove ho fatto lo muoio ah maschidine asca a sinistra asca a sinistra mi levo da dal range di fuoco devo provare a giocarlo senza smash ok io io gioco lo smash io odio se mi sarebbe sul porto chiamatela no il grosso problema qui lo sa qual è quando mi arriverà tipo un flashbound da una parte e un flashbound da un'altra lì ci sarà da ridere non sa che era giocato no ho finito l'ham wow i fucking hate you stalker BOLONNALI! Decisamente Asuka a sinistra We'll stop you! We'll stop you! Devi andare verso il trader che è il culo Però no, questa arma è promossa Beh, lo era per il Devolitioner Cioè, non so Non so se ha uno spazio di top lo ad out Per il Firebug Quanto pesa? No, pesa solo 6, però il problema è che C'è già roba sgrava Cioè, appunto, il Trash Healing Potential Del Flamethrower non lo potrà mai guagliare Però è neanche ore che hanno cambiato Come funziona dei Gunfire e metà dell'arma del Firebug Cioè, un'altra arma del Flamethrower non lo può usare Oddio, se si sta qui dentro saldando le porte Una porta Ci se la può fare Hai visto il bar Forse se si salda una porta Eh, ma ora che ti... 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 ti arrivano in faccia poi Ci sarà provata sui Saddle e sarà bene ma siamo tutti insieme però Se i Berserk stanno davanti ci sarà può fare Ma c'è ancora un nemico Beh, yes Sì, che... dove cazzo è? Ah, è morto di noi PAU! 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 PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP What could happen? What could possibly go wrong? Entrate Ma fast Allora Potrei avere appena scoperto Potrei avere appena scoperto una cosa figa di Smash Vai, ognuno si becchia una porta Siamo bene Oh, alla limite si ritorna giù Due forze, io sto qui e tu sei lì, ok Se smetto di stunnare la roba on hit Il pulverizer fa heavy attack con left click Perché mi sono appena accorto che Mi sono ricordato, anzi Che Smash tra le righe dice anche Che tu fai il 200% di stun power in più Quegli pesanti Ma io li stavo stunnando a martello non stop con gli attacchi leggeri Quindi se ora smetto di stunnare la roba on hit Questa Vuol dire che Ehm L'attacco leggero del pulverizer in realtà conta come un attacco pesante Probabilmente vale la stessa cosa per il Montauver Ma abbiamo un'altra domanda Andiamo con un medico C'è un problema con quella porta, vero? Quale porta? La mia? Sardarla Ehm 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 Non so, se dovessi siamo in una bottiglia anche di... Deco uno scrape, chi è che gli fa qualcosa? Io! No, in realtà no perchè l'Uberizer fa da un esplosivo, BUT I CAN TRIVE! No, ma a te ci servi con i tuoi ciccioni, oh! Non facciamo scherzo! Beh, c'è anche Alessio, no? Eh, Daniele? E che gli fai? Io sono in ferie, no, aspetta! Ma cosa? Prego io! Alessio mi allontano dalla porcina! Ah, ok. No, 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 no! Come c'hai? Non lavoro a tempo pieno via qui. Non puro a te. Dei, non stai smart working! No. Fantastico, veramente. Probabilmente potrei andare a te! I'll swing my hammer faster than you, Zed! Come at me! Sì! Non sta anche in ferie. Holy fuck! Yedar dalla porta! Tecnicamente tu sei... Ma che... Diciamo che da qui ci siamo più preparati da... dagli Ask. Eh, cross qui fuori! È morto! Corretto no, però! Questa è vivissimo! Da ora è morto! O l'ho stunnato! Nel dubbio lo vengono a colpire! Eh, è morto! Ma! C'è, se noi flashpander ve li facciamo male! Sì! Ma l'abbiamo fatto! Ci fa bene tutto il resto, però! Eh... Non lo so! Il problema è quando... Allora... Cambiamo le tre cime. Quello di prima è entrato dal lato di qualcuno... E' passato! Bisognerebbe che uno berser che stesse all'altra parte, almeno! Ah, quindi ti tipo un solo berser che davanti a quella porta e uno di là? Possiamo fare tre berser che... Però poi... Tre berser... Vediamo in... In crincro control! Vabbè, dai, quel cazzo! Un firebug ce la fa, regge una porta! Non si spana anche da lontano! Proviamo, via! Cioè... Oddio! Puoi anche stare dove stavi, Lorenzo? Forse c'hai... C'hai più visibilità per l'esterno! Già, non si scivola a questo gioco, madonna beata! Quindi... Quindi io mi sposto o...? No, no, rimane come se era! Cioè, qui la porta non esiste più! Ok! Hello, door! You will be... Oh, no! C'è un... Quarter, da giù! Ci sono anch'io! Beh! L'hai anche ammazzato! Però adesso non ero pronto a tutta la gente qui! Mi sta arrivando gente da dietro! Oh, due flashbang! Due! No, uno! Due! No, uno! Stai arrivando con calma o male? Ehm... Lorenzo! Vado da loro! 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 Porta anche questo! Puoi... Puoi tornare... No! 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 Che sei! No! 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 Just keep on paring! L'emoclobbing! 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 Quartet è morto! No! 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 Ok! Quartet muore! E ora è morto Che male c'è? Ok, lo dicono tutto e ricarica Ok, il doppio splash damage di Pulverizer più Emoclobber mi piace Fa veramente tanto più danno di prima Prima sembrava di non toccare le nemici, ora muoiono Se non muoiono vanno in terra I colori ne entrano a diritto proprio No, Alessio No, 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 Alessio perché sei fuori? Corri dentro! Perchè non giochi Spartan? Cazzo, Alessio! Alessio non è diventito 25 Ah, non sei diventito 25 Ok, scherzato, lascio stare T'ho visto, t'ho visto bloccato all'esterno Eh, c'è una nascita dietro No, sono morto, t'ho visto bloccato all'esterno Ho triggerato perché ti vedeva andare piano Ho detto, why are you not playing Spartan? Ho venuto a swingarti la roba che ti stava colpendo Io sono morto No, 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 no No, 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 no 79 nemici Eh, culo, però Vai via, via, via Via, via, via Oh, è dolore Vieni via Che fai rafferato Ma che fai rafferato? Poi, che fai rafferato? Che fai rafferato? Che fai rafferato? Che fai rafferato? Oh, grazie Che fai rafferato? Che fai rafferato? Che fai rafferato? Che fai rafferato? Eh, forse Che fai rafferato? Che fai rafferato? Che fai rafferato? Come se fai rafferato? Che fai rafferato? Che fai rafferato? Ero convinto che fai rafferato? Sono morto io Sono morto io Perché sono corso fuori Per eliminargli la roba E nel frattempo La roba che stavo fai rafferato In Zed Time l'ho ucciso me fai io e non ho trovato un cazzo ma adesso per caso hai raccolto il mio pulverizer non credo possa avere lo spazio beh se assolviamo proprio si ho preso il tuo pulverizer non ci avevamo, aspetta vado a prendere ma mamma io è la prima volta è max level quel pulverizer penso sia la prima volta a vita mia e finisco l'ambo per qualsiasi arma ah ma cazzo avvertimi no ma normalmente c'è l'uomo vero, vero, vero vero, vero, vero oh, ha funzionato alla fine dai qualcuno per i boss fa demolizione no io rimuogo medico posso trovare io che c'ho il 20 però non ho il 25 ma perchè te morisce? perchè ha fatto tutti i lasciamenti e qualcosa quindi vai fallo te mi mettiamo un'altra parte alessio se vendi demo cover dammi soldi ti metti troppo se lo vendo no ma io ho 5000 no ma io ho 3000 io ho 3000 te lo dai tutti Matteo che hai bisogno di soldi? tutti in offero beh non ho potenza la pistolina ma che cazzo serve? perchè ti metti in soldi? io putardi basta 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 ah ah solo il putardi non capivo tipo there are some strange looking weapons on the ground my berserk friend si abominico si eh era meglio fresh powder però con demo ma insomma anche lui caramelle e caramelle più grosse ecco mi faccio lo direi io spertero anche belli vabbè facciamo i giro della strada se li possa di qui penso che ne raccoglierò uno no forse no si ma non ci blocchiamo nei pali ahah ho metà vita ok vai contento che fa giro no 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 REEV era troppo spirale ragazzi basta me lo dovrei stare davanti a questa sí oh s**t questo 마co il mio lavoro e secondo me è in casa uuff a sì uuff nidd Sono sfonati anche i droni Sì vabbè E' diventato un fast boy Mi sta in watch Droni dietro Oh oh I'm out of ammo for the emmoclob For the eviscerator Now it's time to club him to death Bello bello E' stupido sto boss davvero Who died and made you fucking king of zombies Ma due settimane fa ci siamo morti Due tre volte Perché non stavamo giocando Perché non stavamo giocando Demolizio By the way Pulverizer Sono morto Sono morto a caso prima I love it I love it Love it I love it I love it I love it